9 tappe mondiali, 33 gare stellari, i campioni dello slittino tornano a sfidare in pista il migliore di tutti i tempi, il mito vivente, il cammino, l'azzurro, armi in secolo, 2 ori olimpici, 6 mondiali, 2 europei, 10 coppe del mondo e a 38 anni un'inesauribile voglia di addentrare nuove vittorie. Lo spettacolo della coppa del mondo di slittino 2013, moda su Rai Sport. Grazie.